Ha quasi 10 anni dall'orribile incidente di Maribel avvenuto il 29 dicembre 2013. Le informazioni riguardo allo stato di salute di Michael Schumacher sono state filtrate in base alla volontà di Corinna e della sua famiglia. Benvenuto su Febbre da Gossip! Prima di scoprire quali sono le condizioni di Schumacher, vogliamo ricordarti di premere il pulsante Iscriviti e di condividere il tuo supporto con un Mi Piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Hanno scelto di mantenere segrete le condizioni di Michael dopo la devastante caduta, e pertanto non conosciamo dettagli specifici. La famiglia ha sempre limitato le loro dichiarazioni pubbliche, fornendo solo aggiornamenti molto limitati, principalmente attraverso comunicati ufficiali e il documentario di Netflix che ha recentemente riportato l'attenzione su Corinna e su Schumacher. Nessuna colpa è stata attribuita a Dio per quanto è accaduto a Michael, che è mancato ogni giorno a tutti. Anche se ancora presente, è diverso, ma la sua forza continua a ispirare tutti noi. A rompere il silenzio sullo stato di salute di Schumacher è stato anche l'ex manager della Formula 1, Eddie Jordan. Ha dichiarato che Michael è presente, ma non è più lo stesso. Questa affermazione ha fornito un'idea delle reali condizioni in cui si trova da molto tempo. Questa notizia ha sorpreso i fan del famoso pilota di Formula 1, poiché Michael non si era mai esposto così apertamente. Speriamo che, nonostante siano trascorsi molti anni, ci sia ancora una minima possibilità che la sua situazione possa migliorare. Tu cosa ne pensi al riguardo? Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video per esprimere la tua opinione e a iscriverti al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto.